Potrebbe essere un pescatore di frodo arrivato chissà da dove, l'uomo rimasto ancora senza identità e trovato cadavere nel fiume Sangro domenica pomeriggio. Tutte le ipotesi sono aperte, in attesa dell'autopsia che la procura di Lanciano ha affidato al dottor Pietro Falco. L'anatomo patologo, come dichiarato al TG Max, dovrà accertare le cause della morte dello sconosciuto e risalire alla sua identità tramite le impronte e accertamenti odontoiatrici. Dottore, lei ha fatto già anche un'ispezione cadaverica? No, non ancora. Partiamo domani alle 8 e mezza. E quindi qual è il quesito? Quello standard, quindi la causa del decesso, è ovviamente integrato con quello che è il quesito connesso all'identificazione. E con tutti poi gli esami correlati, quindi esami istologico, tossicologico e il genetico. Il volto si dovrebbe riconoscere. Si sa anche da quanto tempo sei in acqua? Non ancora, questo non... no. Tutto il comprensorio tra Lanciano e Laval di Sangro si interroga sulla morte del cinquantenne, bianco, europeo, alto 1,80 m, corporatura robusta, capelli neri, brizzolati e barba incolta, che al momento del ritrovamento indossavano a tuta di colore nero e scarpette da ginnastica rosse, non proprio adatte dunque alla pesca nel fiume. Il corpo era stato avvistato da un pescatore in acqua, qualche centinaio di metri a valle del ponte Nuovo Sangro. Era incastrato tra alcuni massi in un'ansa dell'asta fluviale nei pressi di un'ampia radura.